Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione delle 7.45 in diretta della rassegna stampa Occhio ai giornali, tra poco il Carlino, il Corriere, il Messaggero sul nostro touchscreen per vedere quelle che sono le notizie più importanti e subito però vediamo il santo del giorno con la chiesa che ricorda San Romualdo, Abate. Il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.54. Tempo brutto dovrebbe essere passato, dunque ci attendono giornate che torneranno piano piano ad essere estive e quindi con l'aumento delle temperature e con le nuvole che lasceranno il posto al sole. Vediamo le previsioni della protezione civile delle Marche per oggi. Oggi cielo inizialmente nuvoloso, molto nuvoloso con attenuazione della nuvolosità a partire dai settori settentrionali già dalla tarda mattinata e prevalenza di sereno nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno diffuse al primo mattino in esaurimento delle ore centrali della giornata. I fenomeni saranno prevalenti a carattere di rovescio temporale e localmente di forte intensità. Stiamo parlando però di un qualcosa che dovrebbe essere ormai già accaduto per quanto riguarda perlomeno la provincia di Pesaro e Urbino. Per domani, domani venerdì 20 giugno, cielo sereno poco nuvoloso, temperature stazionarie un lieve aumento. Sabato, il fine settimana, sarà con il cielo sereno poco nuvoloso e temperature in ulteriore aumento. Almeno fino alla prima parte della prossima settimana il tempo continuerà ad essere caratterizzato da condizioni di forte stabilità. E quindi questo è quello che ci voleva anche per i turisti che sono già nella nostra provincia, lungo le nostre spiagge. Allora, cominciamo a leggere i giornali. Vediamo subito, cominciamo dal resto del carino, la pagina di Fano. La foto è per Renato Minardi, Rosetta Fulvi e poi ancora Cristian Fanese e Laura Serra. I giochi arrivano in consiglio dopo il voto. Prima convocazione della nuova assise lunedì prossimo. Dopo la composizione della giunta, infatti, è il momento dell'insediamento del Consiglio Comunale, convocato per lunedì 23 maggio alle 5 e mezzo del pomeriggio in Via Nolfi. All'ordine del giorno, la votazione del Presidente del Consiglio Comunale è quasi scontata, quella di Renato Claudio Minardi del Partito Democratico. Mentre alla minoranza andrà sicuramente, come vuole la Prassi, uno dei due vicepresidenti del Consiglio Comunale, mentre l'altro spetterà alla maggioranza. Sul Carlino di questa mattina c'è anche spazio, comincia a prendere spazio, anche ad avere spazio il centrodestra, un centrodestra che, come abbiamo avuto modo di analizzare, immediatamente dopo il voto è praticamente frazionatissimo, quasi scomparso. Falcioni e Carloni, progetto fallito e tu sei isolato, se le dicono insomma e se le danno in questo scontro. Forza Italia apre la porta ai 120 ex iscritti che desiderano tornare a casa dopo la disillusione del progetto Carloni, insiste Mauro Falcioni, esponente di Forza Italia, ex assessore della Giunta a Guzze per dieci anni, oggi fuori dal Consiglio Comunale e forse per questo liquidato dal resto del partito come unica voce fuori dal coro. Vedremo se di questi 120 qualcuno desidererà tornare dentro Forza Italia. Mozione sulle due Aset, non vendete a marche multiservizi, è stato presentato un documento firmato dall'ex sindaco Guzzi, da Del Vecchio e da Marina Cucuzza. Poi ancora il ponte, il ponte dell'Idolo, vedete, è una bella immagine, un'immagine suggestiva, ancora a pezzi di questo ponte che verrà trasferito tra poco al Lido e che verrà assemblato poi nella pista di pattinaggio. Dalla prossima settimana questa imponente struttura in acciaio completamente smontata sarà parcheggiata nella pista di pattinaggio del Lido, dove il personale procederà poi all'assemblaggio delle varie parti. Ricordiamo che questo ponte costa 300 mila euro, ci vorranno ancora due o tre settimane per finire poi il collaudo. Quindi quello che viene definito dal giornale il ponte dei miracoli, ora verrà parcheggiato nella pista di pattinaggio e poi quindi riassemblato e lo vedete a tutta pagina. È una immagine piuttosto suggestiva. Vedremo poi quando sarà definitivamente montato. Il trasporto era ottimizzato, il Santa Croce, la direzione medica replica le accuse del consigliere Danna sul malato sottoposto ad angioplastica. Il trasporto, dicevo, era ottimizzato, il paziente non è stato abbandonato. Però comunque ci scusiamo. Questa è la sintesi della nota della direzione. Poi festival, il passaggi festival di Fano. Ieri ha iniziato con Massimo D'Alema che ha dato consigli a Renzi su Grillo e la Mogherini, il ministro, punta all'occupazione. Il festival apertura in grande stile con il ministro degli esteri. Il programma di oggi prevede invece la presenza di Gianfranco Fini che racconterà il ventennio berlusconiano. Poi ci saranno giornalisti e giudici sul giornale. Potrete leggere ovviamente il programma di oggi. Poi c'è un piccolo trafiletto per ricordare che padre Damiano Angelelli, che in molti conosceranno, dei frati minore Capuccini, cappellano del cimitero cittadino di Fano da 68 anni, festeggerà il suo settantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Padre Damiano gode ancora di ottima salute. Lo scorso primo marzo ha compiuto 95 anni. C'è un programma per festeggiarlo a San Paterniano, nella Basilica, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 giugno. Alle 18 il Rosario, alle 18.30 la Santa Messa e poi al termine della Messa, l'adorazione eucaristica, la preghiera del Vespro. Per informazioni 80.30.16 è il numero della Basilica di San Paterniano. Da Fossombrone, anzi no, da Marotta, Marotta unita ai Trionfi e ai Veleni. Aguzzi dice Seri, piccolo davanti ad Ancona. L'ex sindaco, dice il PD regionale, strapazza Fano come gli pare. Questo perché Massimo Seri, che era presente l'altro giorno in Consiglio regionale, quando c'è stata la votazione, dunque la Regione ha definitivamente detto sì a questo spostamento di stacco di Marotta di Fano verso il Comune di Mondolfo. Seri, dicevo, era presente. Non gli è stata data la parola, insomma, potevano anche quelli del PD fare questa cortesia istituzionale, fargli dire magari due parole. Ammesso che si possa fare e che il regolamento lo consenta. Questo ovviamente lo diciamo senza conoscere esattamente poi la regola del Consiglio, ma insomma poteva essere una cortesia, visto che c'era un sindaco dello stesso partito della maggioranza. E quindi, ecco, su questo ci gioca adesso ovviamente Aguzzi, che dice Seri, piccolo, davanti ad Ancona. L'ex sindaco, appunto, il PD regionale, strapazza. Mentre sull'altro fronte, di Ottallevi, tappa storica dopo oltre mezzo secolo, la città finalmente unita, una città unica, insomma, ecco, ancora ci sono i pro e i contro e sicuramente ci saranno ancora per lungo tempo. Vedremo poi alla prova dei fatti se davvero questi servizi troveranno un miglioramento, se ci saranno invece degli intoppi, se i cittadini saranno contenti oppure no. Lo vedremo alla prova dei fatti, fra un anno tireremo le somme. A Cartoceto, la nuova linea del sindaco Enrico Rossi, giunta leggera con soli tre assessori, uno in meno addirittura rispetto ai quattro previsti, quindi a una giunta definita così leggera e il relativo risparmio di quell'assessore in più che non è stato inserito, di quell'assessore che doveva esserci ma che in realtà è stato sacrificato, il risparmio del voluto andrà al fondo per l'occupazione. Non sono queste le uniche interessanti novità introdotte da Enrico Rossi, il neosindaco di Cartoceto, che lancia anche la figura del consigliere comunale delegato. Nella foto vedete qui la nuova giunta di Cartoceto, sono in quattro, Enrico Rossi, eccolo qui, cerchiato, poi da sinistra Matteo Andreoni, poi c'è Francesca Ciacci e il vice Michele Mariotti. Andiamo sull'altra pagina del resto del carino, da Fossombrone, Mezzolani fa annunci sull'ospedale forsempronese, caustico mezzanotti della minoranza, ogni volta che viene taglia qualcosa, l'assessore conferma che vanno avanti i lavori per la cosiddetta REMS. Mentre sull'altra pagina del resto del carino, lotta alle truffe sul biologico, grano duro, finto bio, altri quattro indagati sequestrati bene e conti per 20 milioni di euro, la Guardia di Finanza non si ferma, si parla di certificati falsi, la qualità dei prodotti veniva aumentata a tavolino con dei documenti fasulli. Poi la cronaca, due giovani Roma bloccate mentre tentano un furto, sono state condannate, è successo a Gabice Mare. La pagina di Fano invece del Corriere Adriatico, ancora in casa del PD, chi recrimina non ha a cuore il partito, Cipriani, Enrico Cipriani, bacchette e delusi e difende la trasparenza di sé, e ribasta farsi male favorendo le tensioni interne. Tra le altre cose, Cipriani dice, il mio rammarico è per quelle persone che dopo la sconfitta elettorale di Federico Valentini, nel 2009 invece di essere valorizzate come premio per il loro impegno, sono state completamente messe da parte. Poi la prima prova d'esame con guerra, tecnologia e fragilità, mentre è stato snobbato quasi da tutti, Quasimodo, storia e attualità, i temi più gettonati dai 2.800 studenti della provincia, un coro contro la traccia poetica. Quell'autore non è in programma. E ancora, secessione di Marotta, era tutto previsto, l'amarezza di Fanunita, Aguzzi e Cucuzza presentano una mozione per contrastare l'iter, mentre da Serrungarina la regione acquisti la tratta Fanurbino, un documento unanime del Consiglio Comunale di Serrungarina. Nuovo presidio a Marina dei Cesari, la capettineria di Porto aumenta i controlli, partono i progetti Mare Sicuro e Bollino Blu. Nuovo diveto di balneazione, questa volta tocca l'Arzilla, l'ARPA ma riscontrato la presenza di coli batteri, nelle acque antistanti la foce, ordinanza firmata dal sindaco Massimo Seri. E ancora dal Corriere Adriatico, la pagina di Pesaro, la cronaca giovani ladre in azione, sorprese da un carabiniere in borghese, sono due rom di 20 anni e una è in gravidanza, avevano già divelto la serratura del portone di un condominio di Gabicemare, entrambi davanti al giudice hanno ammesso che da sempre la loro unica attività è quella di rubare. Ancora in evidenza da Pesaro, produzione lieve crescita, ma non basta, Confindustria registra, buoni segnali in tutti i settori, ore di cassa integrazione, restiamo la maglia nera della Regione. Poi commissione di inchiesta per Via Recchi, l'opposizione vuole chiarezza sulla scuola, primo ufficio di presidenza, definiti i lavori dei gruppi consigliari. 100 militari al lavoro, per un'estate invece in sicurezza, parte il progetto Mare Sicuro, Mare e Spiagge, controlli della Capitaneria di Porto. Poi da Fossombrone, Mezzolani non ha il coraggio di incontrarci, mentre la Giunta applaude alle promesse dell'assessore, mezzanotti tuona, danno l'ospedale ai privati. Come vedete come a Fossombrone l'ospedale sia ormai diventato da qualche mese l'argomento principe, tutti i giorni c'è un articolo sull'ospedale, questo ha significato che il tema della sanità è molto sentito a Fossombrone. Era ai domiciliari, ma spacciava eroina, è stato arrestato, una notizia che arriva da Urbania, nell'abitazione un'albanese trovati 20 grammi di droga nascosti nella lampada sul comodino. Poi da Pesaro, il messaggero, un mutuo per il nuovo ospedale. La Regione sta predisponendo il bando che prevede beni e impegni per 75 milioni di euro. Intanto il Comune di Pesaro prepara i due consigli sulla sanità senza vertici di azienda e Asur. Ginnastica parte l'evento con particolare dedica a Iara, Iara Gambirasi ovviamente, i padiglioni della Fiera di Pesaro aprono i loro cancelli all'esercito di 13 mila giovani ginnasti che oggi entreranno nel quartiere fieristico di Campanara e staranno lì fino al 28 giugno. Comincia così la quinta edizione di ginnastica in festa. A centropagina la Movida, arrivano le deroghe estive, lo vedremo tra poco. Poi polizze false per gli appalti, il PM processate i fratelli Lungarini, per l'accusa i costruttori si sarebbero aggiudicati una ventina di commesse. Sono finiti nell'inchiesta sui grandi appalti come quelli del G8, della Maddalena, delle piscine per i mondiali di nuoto di Roma del 2009 e delle celebrazioni per il 150esimo dell'Unità d'Italia accanto ai grandi nomi di Anemone e Balducci. Poi si parla del biologico, la truffa che si allarga, 50 gli indagati e poi il festival passaggi che debutta con il ministro degli esteri Mogherini e con Massimo D'Alema. Ancora dalle pagine interna del messaggero arrivano le deroghe, si allungano le notte in spiaggia a Pesaro, gli stabilimenti barneari potranno prolungare l'orario una volta alla settimana, sarà possibile tirare tardi al mare anche in occasione delle partite dell'Italia per semifinali e finali del Mondiale di Calcio. Sempre dal messaggero Ceriscioli, l'uomo dei numeri, è tornato a scuola per ora. L'ex assessore infatti per anni si è sentito dire buongiorno sindaco perché Luca Ceriscioli dopo 5 anni da assessore all'urbanistica e 10 da sindaco di Pesaro adesso si sentirà dire buongiorno professore perché è tornato a scuola nei panni del professore di matematica. Ancora 6 mesi di tempo per Marotta Unita, realizzare Marotta Unita, se l'iter non sarà finito nel periodo previsto, cioè entro questi 6 mesi, arriverà un commissario. La pagina di Fano invece del messaggero, stamina, la NM si schiera con il Tribunale, alla foce dell'Arzilla balneazione vietata, l'ordinazione interessa a 4 stabilimenti, poi il PD ai 5 Stelle dice su Minardi e Fulvi attacchi pretestuosi, parlano di attacco mirato e personale fondato su presupposti ipotetici e pretestuosi che è una caratteristica dei 5 Stelle evidente nella forma e nella sostanza. Poi la goccia della fortuna di Avis dell'associazione fanese che è andato alla scrittrice Cristina Tonelli che è andata a ritirarlo sabato scorso nel corso della partecipata serata intitolata Avis Sana alla cooperativa Tre Ponti ed è stata premiata appunto con la goccia della fortuna 2014. Ma la notizia in evidenza sul messaggero è per il turismo. Necessario un cambio di passo, le associazioni sperano sulla nuova giunta la situazione è pessima Confesarcenti dice bene il cambio ma ora servono i fatti che sostituiscano le promesse fatte fino ad oggi mentre Confcommercio serve programmazione male la divisione delle deleghe. Ed è tutto, grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa arrivederci e buona giornata. Grazie a tutti.